la partita hanno vinto 3 a 2 una squadra che gioca veramente bene io l'ho vista 6 partite della ternana gli ari non tanto bene ma comunque una squadra che gioca veramente molto bene, una squadra di serie B che una partitaccia una partitaccia abbiamo l'ex presidente Spinelli ma rimarrà ex? io rimarrò sempre ex e sempre sarete nel mio cuore però noi abbiamo finito tutto ciò che abbiamo fatto in 21 anni è stato fatto, noi abbiamo finito senta presidente però questa situazione noi abbiamo le tre croci che sono state fatte abbiamo quello che è stato fatto nella città, voi lo sapete noi siamo ormai parte della cortesia parlate con il 90% delle azioni ma infatti dopo di lei chiamiamo loro sarò sempre a darmi un aiuto e sempre nel mio cuore senta presidente ma noi abbiamo finito senta presidente ma mi parli un po' di questo aumento di capitale al quale lei così come guardi l'aumento di capitale viene dopo il finanziamento soci che ha fatto il presidente Navarra il finanziamento soci di un milione e cento è stato sottoscritto dal sottoscritto per 110 mila euro e per 124 mila euro da da Navarra poi tutti gli altri soldi sono arrivati dalle federazioni quindi il gruppo che oggi comanda deve mettersi deve far fronte ai giocatori e a tutto ciò che il Livorno ha bisogno quindi se avete il 90% delle azionisti ma soprattutto il 34 o il 51 io non ho capito niente perché io sono rimasto fermo a quelli di Genova e allora gli azionisti di Genova rappresentavano 200 passamilioni di fatturato sono stati mandati via quindi adesso è subentrato il nuovo 34 più 17 i problemi sono su quel 34 più 17 perché quando io ho ho accettato di vendere perché c'era un presidente che poteva sicuramente insieme a tutti gli altri azionisti portare avanti segnamente e sicuramente e portare all'onore del mondo come ho fatto io in 21 anni il Livorno quindi rivolgetevi a loro punto e basta un saluto buonasera no no aspetta 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 perché ci sono un paio di questioni che mi piacerebbe chiarire con lei perché lei è spesso chiamata un caso da altre persone sono tutte chiacchiere quelle che fanno chiacchiere per il momento questi signori da un anno ora domani sono chiamati a un impegno importante aspettiamo domani se questi signori onorano quello che hanno sottoscritto con i soci che si sono scambiati le azioni fra di loro perché io del gruppo Carano non conosco nessuno ma cosa si sente di dire oggi c'ha presidente amministratore delegato direttore generale e non pagano gli stipendi e i dipendenti questa è una cosa vergognosa la salute buonasera un'altra domanda gliela posso fare? buonasera no grazie basta quasi se no mi fate dire cose che non aspettiamo domani a vedere i bonifici di questi signori ma quando aspetta perché per me è rimasto in piedi davanti al notaio di Genova il gruppo che era stato messo insieme che poteva soddisfare ampiamente tutti gli impegni che si erano presi davanti al notaio e davanti a tutti gli avvocati il resto sono chiacchiere mi spiego basta chiacchiere buonasera ma cosa si sente di rispondere a qualcuno ma non posso rispondere perché io non li conosco questi signori mi spiego ci sono alcune dichiarazioni più di una che sono non li conosco quale dichiarazione ma ci sono chiacchiere stanno andando avanti con i soldi che abbiamo messo aspetta il finanziamento soci noi la lega di serie B e la lega di serie C questi non hanno tirato fuori un euro domani devono tirare fuori quello che rispetta di diritto su questo siamo d'accordo ma c'è qualcuno basta allora non c'è altro da parlare scusi abbia pazienza non c'è altro da parlare mi faccia fare una domanda c'è qualcuno di questi soci vecchi e nuovi quindi nello specifico Navarra e Eller proprio oggi Eller ha esterdato dicendo che c'erano delle pendenze guardi lei vada a vedere tutti i credit che l'icorno stanno vivendo su tutti i soldi che arrivano che sono arrivati dalla serie B dal 10% di Spinelli e dai soldi di Navarra poi quello che hanno fatto i soci che sono subentrati quelli riguardano loro i contributi adesso sono passati ad aprile quindi devono solo domani pagare chi sta lavorando chi ha onorato la maglia punto e basta buonasera buonasera grazie questo è quello che dice Spinelli intercettato dalla nostra redazione visto che oggi è stato chiamato un causa la nostra redazione sportiva ha pensato di interpretarlo che impressione ha avuto sicuramente cioè allora io veramente poi abbiamo tantissimi messaggi no allora da come ho capito quello che ha detto il 10% del signor Aldo Spinelli lui aveva venduto al gruppo Navarra no cosa aveva fatto cioè fatemi capire perché io non ho capito no era stato ceduto una parte consistente alla società al gruppo cosiddetto dei piemontesi trovato da Banca Cerea e poi Spinelli aveva venduto il suo rimaneva il 31 ha venduto il 21 a Navarra poi una parte dei piemontesi il gruppo Sicrea ha venduto il suo 34% al gruppo Carrano Spinelli una cosa ha ragione dice io con Carrano non ci ha avuto nulla che fare perché Carrano ha comprato la Sicrea quindi questa ha ragione certo però non lo so io non ci capisco nulla è un mistero è una charada sì è un mistero dai grazie a tutti